Buongiorno, Nati, buon pomeriggio, ciao a tutti, saluta, ciao, ragazzi, salitate, i miei amici, sii naturale, grazie, è Lenino che si copia la maglietta, annuncia mia, buongiorno Simo, buongiorno ragazzi, allora oggi siamo qui, non ci crederete ma questo è il primo il bagno che mi faccio amare dopo che sono tornata, ciao Carla, ciao Martissima, ciao buongiorno, ciao Simo, e niente, la costiera è piena e io ovviamente non siamo qui, che mascara usi ragazzi, buona mascara, allora, uso un po' di tutto della Kiko, basta che sono pieni, io ne metto tantissimo e fa l'effetto ciglia, oh, volutosa, dimmi, allora sì, quindi lui è arrivato con quella ragazza, è un poverazzo, io e Andrea siamo arrivati con quella lì dietro, quella bianca e azzurra, ecco qua, che bello, e tu che ti vedi la diretta? Ciao Noemi, ciao Roelzo, Marco, a te Sì, certo che lo voglio sposare, il donna non si vuole sposare, raga, quindi, e quindi, and so, ciao, and so, ciao, and so, ciao, and so, si vede bene, eh che padre, eccomi qua in tutta la mia piatta qualcuno mi ha fatto il dito siete usciti dove siete voi di bello ragazzi che dopo magari se passiamo ciao Arianna ciao Annalisa ciao Giulia ciao Silvia ciao Mary un bacio ciao Asia ragazzi ho chiesto dove stanno questi ragazzi ma non ci vede bene Enzo va bene guarda poi no tanti cuori per la mia amica Anna è Lenino è Lenino Enzo un po' di davanti come è? a Pagani quando vai a Pagani quando andiamo dal Cunzio si siamo lo smerazzino si siamo lo smerazzino un saluto un saluto un saluto questa meraviglia a Pagani un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto Ciao Martina, ciao Francesca, ciao Rita, ciao Gloria, ciao a soluzione tutti e a far vedere dove sono. Oh no, dopo ci andiamo a tuffare la sola. Allora, ora darò di mani a pesci, Enzo, tiriamo che li vedo io, ok? Vai, eccoci, eccoci, oddio. Oh no, le occhiate, le occhiate, quelle che... Oh no, le occhiate, le occhiate, le occhiate, le occhiate, le occhiate, le occhiate, le occhiate. Oh, le occhiate le occhiate. Ah sì, quelle che ci sono, sì. Sì, siamo a Damaschi, precisamente adesso siamo a Montella, no? Sì, l'ho fatto. E stiamo dando da mangiare ai pesci perché così diciamo, siamo generosi. Che buono, lontino! Amore mio, vale? Ecco, qui ci veniamo, amica, abbiamo deciso che per Olonso prenderemo questa, va bene? Penso che vuole prendere la barca. Ancora che mi parlo con me. Vabbè raga, questa toccata è più bella, mi è piaciuta tantissimo. Non è sull'interio. Benissimo, qui l'ultima volta che stiamo venuti a maggio, Andrea prese il riso, quindi è bello raga. Noi ci prendiamo gli scialatelli e Andrea mangiò il riso in bianco e calamari all'orata perché era dieta e doveva fare una gara. Quindi non vuoi dire più... Perché io lo dovevamo, vero raga? Sì, a Cavasi. Io lo scuramente perché non ci vediamo senza. Allora raga, Enzo mi guarda strano, dice ma che cazzo fai? Ma con chi parli? Anna, mi stai facendo? Ma si scontri mica e li do il telefono? Marco, dice mio fratello perché sei messo insieme. Perché non dovevo rimettermi insieme a lui? E poi quando mai ci siamo lasciati, raga? Quando finisci le vacanze, ragazzi, io voglio stare una vita in vacanza come a Ronso. Mamma, dovrei mettere un po' di mascare in vacanza come a Ronso. Raffa, se vedi una fiorita la lasci o la schiacci solitamente? Ma che domande sono? Perché tu la lasci? Sì. Poverine. Ti metto il cibo, così vado ad restare il cibo e se lo portano tutti i pali. No, non c'è. Pensavo che io vissi oggi. In realtà a questo tempo ci ha graziato, finalmente. E sono riuscita a fare un bagno con questo male, con il mio amore. Ciao, Gio. Grazie. Gio, Gio. No, non c'è più. No, non c'è più. No. Ragazzi, io comunque sono drogata di coca zero. C'è non bevuto, secondo me, a qualsiasi industriali nella mia vita. E sto cercando di smotossicare, nel senso di bere un bicchiere a pranzi o nocina. Così. Mi svolgo. Ciao, Gio. Sì, ciao, Marta. Ciao, Aurora. Giovanna Monzano, quando vi sposate? Dai, presto, ragazzi. Ci sposeremo. Sulla spiaggia. Cri, ciao. I miei capelli sono... Ah, no, mi chiedono che colori sono i miei capelli. Maturani, come ne devo dire io? Ciao, Mary. Alessandra, rispondo, dai. Ok. Ciao, Mucetto. Un bacione. Ora che arriva, è detto che tutti i miei capelli sono i miei soldi. Bene, mi piace. Ma lei non è sconfio, raga. Lei è ristrata. Ma non è sconfio. È sconfio in questo momento. Sì. Ah, ma lei. Ma lo sto ad amare. Stiamo ad amare. Voi che fate? Dove state? Che facete? Lo so che fissi che fate. Ero iniziale per la polera. 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 Ciao, Sandra. Ciao, ciao. Mezza teso. Bene. Grazie. Ciao, Daphne. Ciao, Giusy. Ma vale l'unica, non ci sono mai stata. Quindi, ciao, Angelica. Ciao, Sabina. Dopo passiamo per la gelola, raga. Non penso, raga. Dopo direzione, tempo la dorata. Grazie. 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 E' bella, non mi piace. Allora, Andrea il 24 e il 25 avrà delle serate. Dove ce n'è il 24? Una a Lugano e una a Bergamo. Quindi, a me, le vicinanze, lui sarà lì. Cioè, metteremo la rocaldina, così, magari, se chiede lì, andate a trovarlo. Mi raccomando, faci dei bravi. Mi raccomando, perché io potrei apparire all'inpromiso. Voglio, mi raccomando, mi raccomando, non mi raccomando. Stanno, sta arrivando il cibo, sta arrivando. Eccoli. Grazie. Ecco qua. Grazie mille. Eccoci. Questo è il mio antipastino. E questo... Grazie, ragazzi, buon appetito. Grazie, ragazzi, buon appetito.